era il 10 novembre 2013 ragazzi il giorno in cui io insieme altri due amici andrea e elvis decidemmo di distaccarci dal mondo di gran turismo facciamo parte di una grande comunità gtdrivers.it che contava oltre 12.000 iscritti e vi assicuro che all'epoca per un forum era veramente tantissimo era il punto di riferimento di gran turismo in italia e quel giorno lì apriamo questo forum simdrivers.eu e nasce la comunità appunto di simdrivers.eu il canale youtube viene un anno dopo arriva un anno arriva un anno dopo perché mi viene l'idea di dire cavolo perché non posso condividere quella che è la mia passione e soprattutto condividerla come un con tutta l'umulità di questo mondo in base alla mia esperienza personale. chi mi segue sa che non ho mai avuto la pretesa di imporre le mie idee o comunque tecnicamente potermi affermare dire io so tutto assolutamente no mi sono sempre basato su quelle che sono le mie esperienze ho sempre rimandato a persone esperte per i commenti tecnici e di esamine approfondite e continuerò a farlo almeno che non mi metto a studiare e a capire a diventare un professore di accessori per la simulazione però penso che in italia mancasse all'epoca qualcuno che desse un'opinione da utente finale da cliente finale e mi sembra che sia e che piaccia questo tipo di format ovviamente sim drivers come canale youtube si è arricchito anche con news con le live insomma ragazzi ci sono oltre 800 video sul canale ogni volta quando li guardo dico ammazza quanti video ho fatto ne avrò sparate tante di cagate ma quello che in questi dieci anni mi rimane più impresso al di là di una crescita comunque che per me è un traguardo avere oltre 6.000 persone che mi seguono e che partecipano attivamente che sia sulle live che sia nei campionati che sia nei commenti mi rimane impresso il fatto che ho fatto ho avuto l'onore e la fortuna di poter fare delle conoscenze che hanno arricchito la mia vita in questi dieci anni e per questo ringrazio la simulazione di guida ringrazio questo nostro mondo ringrazio chi mi ha dato fiducia chi mi ha sostenuto in questi anni e che continua a farlo e devo essere anche grato perché ho conosciuto veramente delle persone incredibili che tutt'oggi continuano a portarmi tanto nella mia vita e che contano enormemente nella mia vita e quindi sono veramente felice non ci fosse stata la simulazione ragazzi non avrei avuto l'occasione neanche di vivere delle avventure bellissime ad esempio andare a visitare dei centri di simulazione andare a visitare dei rivenditori avere la possibilità di testare dei prodotti che non è che tutti possono averlo sono veramente molto contento di questa cosa qua e sono contento anche di questo traguardo e ringrazio rosario perché non me ne ero neanche accorto dei dieci anni ragazzi non me ne ero neanche accorto ed era doveroso farlo ma non per festeggiare simdrivers al quale a tutta la comunità auguro tanti auguri auguro buon compleanno a tutti noi ma era doveroso farlo perché devo ringraziare tutti voi se simdrivers punto eu vive ed è quella che è diventata oggi come comunità che il canale che curo io ragazzi senza di voi non è niente quindi grazie a tutti e tanti auguri a noi per questi dieci anni di sim drivers punto eu da fabbri se tutto un abbraccio ciao ovviamente iscrivetevi al canale